amici oggi parliamo di bottanica ne parliamo con un grande esperto si chiama gianni montina dall'azienda vivai montina eccolo qua ciao gianni ciao caro allora parliamo di potatura subito secco cosa bisogna fare in caso di potatura bisogna tagliare i rami giusti e per tagliare i rami giusti bisogna tagliare i succhioni e non i rami che fruttificano secondo consiglio vai secondo consiglio se volete venire da noi facciamo dei corsi che durano un giorno e sono veramente soddisfacenti tutti rimangono soddisfatti dei nostri corsi se ne vanno via e hanno imparato a portare in un solo giorno e un solo giorno c'è un solo giorno vedere questo un giorno intero al mattino si fa la pratica al pomeriggio la teoria e ci sono compresi i trattamenti concimazione tutto quello che concerne piante da frutto e anche ornamentali signori di bivai montina lui è gianni montina cisano sul nevo provincia di savona i corsi sono già partiti andranno avanti ancora ancora prossimamente per sapere di più bivai montina punto it saluta gianni ciao cari ciao